ragazzi siamo arrivati una volta al mese con 50 per foto foto mi raccomando dai forza 50 per non ci tradisce mai non speriamo 50 per vediamo i numeri vincenti eccoli qui numero 28 il pattume 18 la salmonella 17 il guscio 14 la limaga 5 per 10 dai per ultimo stavolta pronti primo numero 33 anni di cristo benissimo 38 sentono così non mi ricordo più per te che passo ora nel libro dei ricordi 38 era la marionetta marionetta 11 il bicchiere di prosecco 26 la sciabola 47 i mertilli 40 la farfalla 19 torrone 30 il giorno del matrimonio matrimonio io e la principessa qui spagabal 16 16 e il pinturicchio 36 l'aquila 52 il pitone 44 la faringe 21 il buco del sapataus 5 per che cosa vuol dire no ragazzi cosa scopri il prezzo sotto 5 per 5 per 5 scopri il prezzo 20 20 per 5 5 per 2 10 100 euro porca troia aspetta che vado avanti 26 e vacca troia mi sono rimasto al libito al libito al libito 5 per 2 10 100 vacca il treno 27 andiamo avanti bella piuttana 5 per aspetta vai al treno che botta 53 53 5 per non ci credo 54 5 per ma stai zitta che devo coprire con lo sopra il 5 per 100 andiamo alle 6 shells 12 29 29 è il pittoncino bidoncino 24 adesso cancella il per 5 e vediamo ma no ma è già 49 49 vediamo se c'è anche questo per 5 ma questo è il suo sì sì lo so vediamo per 10 per 10 32 no ragazzi 20 per 5 100 euro ragazzi ma che ragazzi ti capi a sperare che veniamo di là 100 euro no ragazzi 100 euro 5 per 2 non ci credo ragazzi 5 per 2 10 100 andiamo al mare prenota prenota anche voi eh praticamente è per 5 20 per 5 che culo no ma non ci credo eh 100 20 per 5 100 l'altra volta 50 adesso 100 gira bene va bene alla prossima ragazzi mi raccomando massimo 10 euro e una volta al mese se va bene vedete che a volte va bene a volte va bene a volte va bene 100 euro ragazzi 100 euro ragazzi tu vedi che mi assassino ciao ciao via sta volta è andata eh non ci credo non ci credo 100 euro c'è più culo che anima ti espi chiudi 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 chiudi